Visto che per i grillini dal comune non si attiva nessuno, vogliono ricordare ai cittadini fanesi interessati che per l'incarico di presidente di seggio elettorale e di scrutatore scadrà a breve il termine per presentare la domanda di inserimento nell'albo. Vi ricordate il famoso cavallo di battaglia del PD prima delle elezioni? Per quanto riguarda gli scrutatori e i seggi elettorali si dovevano assolutamente chiamare le persone disoccupate. Non solo questa attuale giunta non ha fatto niente per questo ma addirittura manca di trasparenza e di comunicazione nel fatto che entro ottobre scadono le iscrizioni per chi vuole essere presidente dei seggi mentre entro novembre scadono invece le iscrizioni all'albo per chi vuole essere invece scrutatore. Quindi insomma una mancanza di comunicazione e di partecipazione molto grave che appunto denota questa mancanza di attenzione verso i disoccupati e i cittadini fanesi. Il direttore dell'ufficio elettorale di Fano, Lucia Oliva, oltre a confermarci queste scadenze comunica che per presentare le relative domande è possibile andare nel sito ufficiale comune.fano.ps.it cliccare su modulistica anagrafe e una volta in fondo alla pagina sotto la voce modulistica elettorale sarà possibile trovare i facsimile delle richieste da compilare. Queste insieme ad una copia del documento di riconoscimento possono essere portate direttamente in municipio oppure inviate a mezzo posta o tramite email o fax.